Siamo con le ragazze di Rari Nantes di Legnano, allora cominciamo, tu come ti chiami? Giulia Tu sei? Alessandra Elena Sara Allora ragazze, venite un pelo più avanti, grazie, perfetto Siamo qui allo stand dolcefarnuoto.it con Bauli, ovviamente promuove lo sport, il vero sport e la sana alimentazione Voi qui a Riccione cosa state imparando in questi giorni? C'è qualcosa che in particolare vi resterà di questa esperienza? Sì, beh, penso che fare i campionetti italiani sia comunque un'esperienza significativa che possa insegnarti numerose Il tuo stile preferito? Delfino Senti, le gare come sono andate? Ah, per adesso bene, soddisfatti assolutamente delle gare Ieri c'era Alessia Filippi, l'avete vista? Sì Senti, che effetto ti ha fatto vedere una campionessa del suo calibro qui? Eh, vabbè, cioè, è emozionante come cosa Il tuo sogno? E devo ancora decidere, il sogno più bello deve sempre... non lo so Ragazze, tutti insieme, allora, un consiglio che dareste a chi vuole iniziare a far nuoto adesso, magari che è più piccolo di voi? Cominci tu Beh, io penso che ci sia sempre tempo, comunque, anche a iniziare a una certa età, sia comunque bello Io personalmente mi piace come sport e lo consiglierei a chiunque Condividete? Sì